Giatras, Giatras, Giatras difendeva tesi e palloni Giatras, Giatras, Giatras insegnava all'Istituto Marconi Giatras, Giatras aveva due stampelle ed un tutore Giatras non perdeva mai un minuto il suo buon amore Ma la stagione adesso è finita, comincia la sfida Per tornare in campo entro l'autunno Un autunno di fuoco dai che manca poco E tornerai a giocare Giatras, Giatras continua il suo percorso riabilitativo Giatras, Giatras lo ferma solamente per l'aperitivo Giatras, Giatras con il suo bicchiere le attaccanti si beve Giatras una prof eccezionale per le nuove leve Ma la stagione adesso è finita, comincia la sfida Per tornare in campo entro l'autunno Un autunno di fuoco dai che manca poco E tornerai a giocare Grazie a tutti.